Aste e... Sono di Cecilia Porta. La signora ha aspettato per ore Arturo di Cavini sotto casa sua. Arturo e Favre abitano nello stesso palazzo. E poi non mi sembra uno che ammazza un uomo. Però potrebbe essere coinvolta alla miscita. Cecilia Porta è... la mamma di Gabriele. Mi prego. Vedi la verità perché rischia veramente Il risolvere Avevo questioni risolute Ha detto che non lo conosceva Tua madre aveva un problema Adesso sta cercando di risolvere E poi perché parlavate di un omicidio? Cosa c'entra mia madre con un omicidio?